Re persone arrestate, 6 denunce e diversi grammi di droga sequestrata tra cocaina, eroina, hashish e marijuana. E' questo il bilancio di una serie di controlli straordinari del territorio eseguiti dai carabinieri in tutta la provincia di Bari. Il primo a finire in manette è stato un 33enne di Canosa di Puglia, al quale i militari hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari. L'uomo, ritenuto colpevole di una rapina ai danni di una gioielleria di San Marco in Lamis, avvenuta nel 2002, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Dovranno invece rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i due fratelli arrestati a Castellana Grotte, rispettivamente di 23 e 28 anni. A seguito di una perquisizione all'interno della loro auto, i carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi di eroina. In casa, invece, i due nascondevano un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Per lo stesso reato, sono finiti nei guai altre due persone a Polignano a mare, una di 20 e l'altra di 40 anni, entrambi deferiti e stato di libertà. Il più giovane dei due è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, mentre il secondo nascondeva nella sua abitazione 5 dosi di cocaina, del peso di circa un grammo l'una. A Locorotondo, infine, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un uomo di 47 anni accusato di ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 54 bidoni da 20 kg, contenenti in tonaco, risultati rubati ad un imprenditore edile lo scorso 11 ottobre. Il materiale, del valore complessivo di 4.000 euro, è stato sequestrato assieme ad alcune dosi di marijuana e 25 cartucce calibro 20, nascosta in casa dal 47enne.